È impossibile. A quanto pare no. Un cuore sano non si ferma senza motivo. Un cuore fermo non riparte senza motivo. A quanto pare sì. Sono tre ore che è staccato dal bypass ed è stazionaria e il dolore è sparito. No, non è vero. Credi che minta sul suo stato di salute? Solo perché non c'è adesso non è sparito. Solo perché c'era prima non deve tornare per forza. Chase aveva probabilmente ragione. Aveva un'infezione tropicale che è scomparsa quando le abbiamo dato gli antibiotici per il bypass. Gli antibiotici non l'hanno certo riportata in vita. Escluso il miracolo è l'unica spiegazione dei suoi sintomi. Come mai sempre merito di Dio quando succede qualcosa di bello? Dov'era quando il cuore si è fermato? E se non fosse un errore umano? Se fosse un errore divino? Un difetto congenito a un'arteria che la rende soggetta alle infiammazioni? Dobbiamo fare un'altra angiografia. Abbiamo osservato il suo cuore da mille angolazioni. Non c'era alcuna traccia... Quando abbiamo guardato all'interno ci siamo fermati prima di vedere qualcosa. Perché lui si è fermato.